L'attività svolta nel corso del 2022 dal garante per l'infanzia e adolescenza della toscana Camilla Bianchi arriva in aula con la relazione e poi con il dibattito dalle gruppi consigliari. Un anno di lavoro spiega il presidente della commissione affari istituzionali ancora segnato dalla pandemia. Così come intensa è stata l'attività del garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche di il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la prefettura di Firenze. Nel corso del 2022 sono state confermate le adesioni da parte del garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Intensa l'attività del garante anche con riferimento all'attività alla tutela dei minori relativamente all'attività di cyberbullismo. Tutte attività che in vero il garante svolge da diversi anni ma che nel 2022 nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista sono state confermate e in parte anche implementate. Ad ogni buon conto con l'auspicio che si possa arrivare presto anche ad una revisione della figura del garante per l'infanzia, la normativa infatti del 2010 quindi piuttosto risalente anche alla luce delle diverse figure di garanzia che esistono o che dovrebbero esistere a livello regionale il Consiglio ha comunque approvato a maggioranza la risoluzione. La risoluzione che esprime apprezzamento per il lavoro delle garante passa a maggioranza. Contrario il gruppo di Forza Italia non si sono espressi i fratelli d'Italia e il gruppo misto. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio. Si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in regione toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia perché dal nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni e certamente oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. La Lega non ha partecipato al voto. Si rischia di avere quello che lo stesso garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti perché dati recenti non li abbiamo ma intorno prima che iniziassi il Covid. C'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa. C'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Dalla maggioranza Italia Viva sottolinea la necessità di implementare gli strumenti a disposizione del garante. Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani necessita di un impegno maggiore da parte del garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incesivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi e di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Cerchiamo di occuparci ovviamente delle questioni di casa nostra, verrebbe da dire, però non rinunciamo a sollevare lo sguardo per cercare di capire i segnali che arrivano anche dagli altri territori. Vi ricordo il passaggio che è stato fatto ospitando Nana Malaschia e adesso questo convegno al quale sono stato invitato e per il quale ringrazio ovviamente per l'attenzione che è stato preceduto anche da un'audizione in Commissione Europa che ha permesso alla Presidente dell'Associazione di illustrare le sue valutazioni che noi abbiamo raccolto rispetto alla situazione nella quale opera il suo popolo e la sua nazione. Così il Presidente della Commissione Europa introduce la giornata di riflessione che in Consiglio regionale è stata incentrata sulla situazione in Bielorussia, dove dal 1994 Alexander Lukashenko guida ininterrottamente il paese. Le elezioni svoltesi da allora non sono mai state riconosciute come libere dall'Ocse e in occasione di quelle del 2020 sono state forti le denunce di Brogli nel paese. Ospite d'eccezione, Yulia Yukno, rifugiata politica che ha sottolineato i legami tra Bielorussia ed Europa. Il messaggio è molto chiaro. Noi siamo il popolo europeo e noi facciamo una parte della famiglia europea e noi abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno e lo chiediamo e continueremo a chiederla perché non è facile sinceramente combattere da soli e da soli nessuno mai ha vinto. Tutti vincono insieme. Qual è la sua vicenda personale? Io sono scappata due anni fa dal mio paese, sono arrivata prima in Polonia, poi sono arrivata in Italia. Ad agosto l'anno scorso ho fatto la richiesta della protezione internazionale e a febbraio quest'anno ho ricevuto i documenti, allora ufficialmente sono rifugiata politica. Poi ho fondato qui un'associazione che si chiama Talacà, che si occuperà delle attività umanitarie, dei progetti culturali e anche delle attività politiche. Sono stata perseguitata, sono stata due volte in carcere e dopo la seconda volta ho deciso che forse è meglio andare via perché se no potrei finire in carcere per 5-10 anni per l'attività che facevo, che era l'attività abbastanza semplice. Io univo la gente e questo era il mio obiettivo, unire la nazione. Per questo però da noi ti mettono in prigione. La prima volta sono stata messa in prigione per il braccialetto bianco-rosso-bianco e l'altra volta chissà perché sono arrivati a KGB e niente, senza motivo. Diversi consiglieri regionali che hanno preso parte al convegno assieme al presidente del Consiglio regionale. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo specialmente dopo le elezioni del 2020 è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Il libro è una ricerca che nasce otto anni fa e questo libro permette di portare una luce di chiarezza. Tutti quelli erano state le precedenti pubblicazioni addirittura di ritardo 800 in cui Livorno veniva chiamata in causa con l'autore Paganini, però con un modo di dire per il sentito dire. Quindi in questo libro invece è una sorta di catalogazione di documentazione certa di quelle che sono state le accademie per violino e per grande orchestra, i vissuti di Paganini a Livorno. Niccolò Paganini e Livorno, le sue attività artistiche in città, i rapporti con i musicisti labronici, i soggiorni per le cure. A ricostruire questa parte della biografia del celebre violinista attraverso un'attenta e rigorosa ricerca documentale è il volume Paganini e Livorno, sillabe editore di Massimo Signorini, presentato alla biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Ho avuto anche la fortuna di ritrovare delle locandine specifiche dove si possono leggere i programmi musicali. Un altro elemento importante è il libro fa fuoco su quello che è quel signore chiamato alla francese Monsieur Livron che a livello proprio internazionale sembra che sia stato colui che ha donato a Paganini il famoso violino Il Cannone che attualmente è custodito presso il Palazzo Tuzzi di Genova. La presentazione è stata arricchita da intervalli musicali del maestro di chitarra Michele Greci che ha proposto musiche del tempo a partire da quelle di Ferdinando Carulli e Filippo Gragnani per poi passare alle composizioni per chitarra dello stesso Paganini. Paganini, conosciuto universalmente come grande violinista, forse non tutti sanno che in realtà ha scritto più brani per chitarra che non per violino. Poi non furono pubblicati fino alla sua morte perché praticamente lui aveva timore di sminuire la sua figura così faticosamente costruita presentandosi con la chitarra che all'epoca era uno strumento eminentemente popolare. Un volume ha sottolineato il consigliere regionale Francesco Cazzetti intervenuto alla presentazione che testimonia questa natura internazionale della città di Livorno. Questo libro è un libro dedicato a Paganini ma permette anche di scoprire tanti aspetti della città di Livorno e se è possibile dire anche della regione toscana. Un progetto molto laborioso perché ha coinvolto tantissimi autori di diverse penne, è un progetto che fa parte, fa seguito a un precedente, il progetto al famminile delle sconfinate che era un progetto un po' più limitato di soli 15 autori. stavolta si parla addirittura di 52 autori e stavolta sono personaggi creati da artisti che danno loro voce, a cui gli autori danno voce. Presentazione nell'auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso del volume Le Immaginate curato da Cristina Gatti e Nicoletta Manetti edizioni Il Foglio. le storie di 52 eroine della letteratura, del cinema e delle arti raccontate da 52 autori diversi con i disegni dell'artista Enrico Guerrini. Personaggi femminili ormai autonomi dai loro autori che scalpitano, vivono di propria vita reclamando libertà di parola. Possiamo trovare da donne, personaggi femminili di cui si perde anche l'origine della mitologia, ad esempio Circe, Medea, Medusa, grandi cattive della storia, fino a personaggi anche dei film d'animazione o anche delle serie televisive, del cinema, per non passando attraverso a tutta la letteratura, quindi letteratura, teatro, possiamo trovare sul cinema, pseudo moderno degli anni 60, colazione da Tiffany. Alla presentazione del volume prodotto dal gruppo scrittori Firenze è intervenuta anche la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, Cristina Giacchi. Immaginare è rappresentare, è anche vedere, non è soltanto immaginare ciò che non esiste e queste donne rappresentano e fanno vedere caratteri di un femminile che esiste e anche quando non esiste è, anche quando non esiste in carne e ossa è nel nostro DNA sociale e quindi molto merito a loro che hanno saputo con questo filo originale raccontare il femminile della storia, della letteratura e quindi il femminile che è stato e che può essere anche per il futuro. Un evento atteso appunto perché non è solo teatro, ma è teatro, spettacolo, danza, musica, ma soprattutto sono luoghi particolari della città che sono palcoscenici anche naturali come il teatro romano, ma anche il coinvolgimento della Pinacoteca Civica, ma anche il coinvolgimento del Museo Guarnacci. Ventunesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra dal 7 luglio al 6 agosto, più di 15 appuntamenti tra musica, teatro, danza. Il palinsesto, chiamiamolo così, è nutrito molto anche di spettacoli di provenienza internazionale dalla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, avremo un po' mezza Europa che si raduna intorno a questo ventunesimo anno. Bruto dal Giulio Cesare di Shakespeare aprirà la rassegna, poi in cartellone... Un grande ritorno, il ritorno di Jan Nabol, che è uno dei poeti inglesi, giovani, ma più in vista in questo momento a livello internazionale, che porterà un omaggio suo personale alla Divina Commedia. E ancora opera da testi di Verga, Virgilio e Borges, una serata dedicata al tango e il balletto con la Carmen, un omaggio particolare a Giorgio Albertazzi nel centenario dalla nascita. Quindi ho pensato di disseminare un po' tutta la programmazione del Festival in omaggi silenziosi al maestro, come potrebbe essere chi conosce un po' la sua storia. Il Borges, lo stesso Bruto, lo stesso sottotitolo del nostro Festival che si chiama il verso l'ha afflato il canto, l'aveva accognato lui per i laboratori teatrali che fondammo insieme. L'imminente edizione è stata presentata a Palazzo del Pegaso alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del Consigliere regionale Diego Pedrucci. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza e Volterra è una delle massime espressioni di tutto questo e che tutta questa iniziativa si svolge esattamente in linea con quella che è la nostra idea di Toscana. Investire in cultura, investire nel teatro vuol dire investire in libertà e la stessa libertà con cui noi proviamo a raccontare anche la bellezza dei nostri territori. Io penso che uno dei temi fondamentali dei prossimi anni in generale sarà il tema della rigenerazione, saper rigenerare spazi, persone attraverso appunto processi virtuosi. Io penso che il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra fatto in un luogo suggestivo, strepitoso, vale la pena anche se fossero spettacoli pessimi andarci comunque per respirare quell'aria. In realtà sono spettacoli bellissimi, vale quindi la pena due volte ma è un appunto processo di rigenerazione di un luogo fantastico che è il Teatro Romano di Volterra.